Secondo l'ultima stima prodotta da Union Camera, entro il 2025 l'Italia avrà bisogno di almeno 2,2 milioni di nuovi posti di lavoro verdi o green job, ma per coprire il fabbisogno occorrono lavoratori con competenze adeguate. È in questo contesto che si inseriscono le fondazioni ITS della Toscana, istituti ad alta specializzazione tecnologica, nati per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze da parte delle aziende. In questa direzione si muove anche l'iniziativa Green Hub Academy che mira a sviluppare i piani di formazione aggiornati per il personale delle imprese. È una risposta ulteriore, uno strumento per sostenere con politiche attive del lavoro la transizione occupazionale che giocoforza si porta dietro questa grande transizione occupazionale che è anche una transizione ecologica. Un progetto di eccellenza formativa che grazie ad un'analisi del fabbisogno professionale espresso dalle realtà aziendali punta a promuovere consulenze e servizi integrati in grado di valorizzare il potenziale delle risorse umane attraverso percorsi di crescita e aggiornamento. Noi riteniamo che istruzione e formazione siano oggi pilastri per la crescita delle nostre aziende perché ci sia una puntuale ricerca di quelle che sono le competenze necessarie a svolgere nel migliore dei modi il nostro lavoro oggi in una dimensione moderna. Grazie per la visione! Grazie per la visione!